Operazione congiunta delle squadre mobili di Forlì e Cremona che hanno arrestato tre persone in flagranza di reato. Si tratta di estorsione aggravata in concorso ed appropriazione in debita aggravata in concorso. Il primo arrestato è un uomo di 58 anni, commerciante di Pellice, residente a Soncino, e tenutario di uno showroom nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele di Milano, di un 59enne, commerciante di Pellice, residente a Via Dane, con showroom a Verona, e di un 54enne, artigiano edile di Orzinuovi, in provincia di Brescia. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia asporta da un grossista di Pellice della Repubblica di San Marino, che aveva segnalato la perdita di un'ingente fornitura di Pellice affidata in conto vendita al 58enne di Soncino, il quale, in grosse difficoltà economiche, aveva trafugato nottetempo dal proprio showroom milanese l'intero carico con l'aiuto di un complice, che ha fatto da trasportatore e poi arrestato. Il terzo uomo tratto in arresto è quello che si è offerto come intermediario per il recupero di parte della merce, del valore complessivo di un milione di euro, circa all'ingrosso, ma di due milioni alla vendita al pubblico, in cambio dell'annullamento di debiti che aveva contratto con il proprietario delle Pellice. Il blitz della polizia è scattato al momento in cui sarebbe dovuto avvenire lo scambio con riscatto.